Se passano tutte e tre è tanta roba. C'è su otto. Tanta roba. Sarebbe diciamo uno spot per il calcio italiano che in questi anni qua in Europa sicuramente ha fatto fatica. Abbiamo preso delle belle bastonate, siamo stati criticati. Però se tu guardi passa il Milan che gioca un bellissimo calcio, comunque anche stile un po' europeo. Con questo il Napoli non ne parliamo neanche perché è sotto gli occhi di tutti. L'Inter forse è la squadra meno europea delle tre che potrebbe andare avanti. Però insomma sarebbe veramente per il calcio italiano un segnale molto importante. Tu parli europea proprio come stile? Come stile, sì. Io parlo principalmente di stile anche perché poi parliamo di una squadra che è composta da giocatori forti. Forti e anche europei.